Amici di Galileo, questa sera conferenza DMT AirDarshow. Relatore Giorgio Patera, biologo, ufologo e cercatore del Centro Ufologico Nazionale. Interverrà Massimo Pareschi, esperto di casistica su AirDarshow. Benvenuti a tutti, iniziamo, continuiamo una conferenza su un argomento che abbiamo già iniziato sul nostro canale YouTube. Perché abbiamo trattato questo argomento? Volevamo andare un po' ai confini della realtà, nel senso che veniamo da un paio di annate talmente brutte che è meglio evadere che stare sui con i piedi per terra. E quindi abbiamo deciso di dedicare il nostro tempo per imbastire alcune conferenze, in parte su online, in parte dal vivo, su questo argomento. E' un argomento che ovviamente se siete qua, in parte, penso che lo conoscete già. Chi è che non ha mai sentito parlare di AirDarshow? Penso che tutti voi abbiate sentito parlare di AirDarshow. Ma sono vere o false? Sono vere o false, secondo voi? Potreste anche essere qua, essendo scecchi. Sono vere o false? Una domanda che vi faccio. Cosa pensate? Beh, forse dovreste pensare tutte vere o ci sono anche quelle quali? Probabili. Ci sono anche falsi. Esatto. Il concetto è, non dobbiamo credere a tutto quello che leggiamo e sentiamo, perché ci sono i veri e ci sono i falsi. Perché, come diceva quello di Tarquinia, quando i falsari imitano il cratere, il cratere è un caso particolare dipinto, no? Degli etruschi, e quello è falso, l'ha copiato da uno che è vero. Quindi se c'è il cratere falso, ci deve essere stato quello vero. Solo che è vero, lo mettono nei musei e il falso lo svegliano a quello che è a bocca e ci sono anche i casi che noi abbiamo per tanti anni pensato veri e poi non lo erano. Il viceversa. Chi di voi conosce il caso dei coniugi Vidal? Nessuno di voi? Qualcuno, forse? Il coniugi Vidal è un caso argentino del 1968, dove questi coniugi partiti da Buenos Aires si sono indiretti a un altro paesino che adesso non ricordo, ma stavano tornando a casa, una macchina di loro amici è partita prima di loro, insomma loro sono partiti dopo, gli amici arrivano e i coniugi Vidal non si vedono. Non si sa che fine è un fatto, gli amici tornano indietro, fanno la stessa strada, nessuna notizia, cominciano ad avvisare la polizia, l'elicotteri, insomma non saltano fuori. Alcuni giorni dopo arriva una telefonata da Città del Messico, dall'ambasciata argentina da Città del Messico, sono i coniugi Vidal che dicono siamo qui, stiamo bene, eccetera, eccetera, perché loro nel racconto della loro storia, quella che è stata riportata in media, erano finiti in Argentina, scusate, erano finiti in Messico all'improvviso. Loro si sono stati avvolti da una nube, una nube biancastra, mentre viaggiavano per strada e si sono ritrovati dopo, per loro era passato anche poco tempo, si sono ritrovati in un ambiente che non conoscevano, hanno chiesto ai passanti, ma dove siamo, dove siamo, siete in Messico, siamo in Messico, pensate che loro erano in Argentina. Bene, adesso ve l'ho abbreviato, per tanti anni abbiamo creduto a questo caso, anche noi, ufologi, quelli che si occupavano di ufologie. Nel 1996 è uscita la verità, il regista argentino, non ricordo il nome perché è un nome un po' particolare, ha ammesso di aver inventato questa storia per pubblicizzare un suo video, un suo film, che è uscito pochi mesi dopo, o appena era uscito, o stava per uscire, e in combinazione aveva la stessa macchina, la stessa 500 verde, bianca, mi sembra che fosse, quindi dobbiamo stare molto attenti quando leggiamo e studiamo, magari leggiamo eh, quello l'ha pubblicato, è vero, eccetera, e dico anche Claudio, sai, Claudio, tu anche tu magari per tanto tempo mi credo che questo caso fosse vero, non lo è. Diverso è il discorso di un altro caso argentino, il rally del 1978. Cosa è successo? Questo forse non so quanti di voi lo conoscono. C'è stata una gara importantissima in Sud America di rally, una macchina che partecipava a questo rally ha visto nello spicchietto retrovisore una specie di luce a forma di uomo bianco che si avvicinava sempre di più, a un certo punto si sono sentiti sollevare da terra, sensazione di calore fortissimo, e si sono ritrovati, appena si sono sentiti sollevare da terra, il navigatore ha avuto l'accordezza di guardare la pietra miliare che c'era sulla strada per vedere a che chilometro erano. Quando sono tornati in sé, hanno controllato la pietra miliare un'altra volta e si sono trovati a decine e decine, anzi centinaia di chilometri di distanza, erano quasi arrivati, sono arrivati prima di una macchina che era partita molto prima di loro e loro e quelli li ha poi antichiarati di non averli visti. Perché vi dico che in questo caso è autentico? Perché qui ci sono i testimoni e ci sono i protagonisti che hanno dichiarato, esiste ancora un video su YouTube, lo potete vedere, è molto bello, è fatto un giornalista argentino, è in portoghese, però volendo si capisce, dove mettono nero su bianco quello che è, ci mettono la faccia, mentre nel caso dei coni giudali nessuno ha mai saputo chi erano, quindi dobbiamo stare molto attenti quando crediamo a quello che sentiamo e leggiamo, ci vuole un po' di esperienza, però a volte ci si ingannano, li veniamo ingannati anche noi, involontariamente. Perché ho detto questa cosa? Perché le attacce di cui parliamo adesso sono un argomento molto delicato, perché sono soprattutto esperienze da camera da letto, quelle più, diciamo, di bastarde, quelle che ti ingannano di più, perché nel cuore della notte, e sono subdole, perché ci colpiscono nel momento in cui siamo più difesi, cioè nel cuore della notte, dalle tre alle quattro e mezza, cinque, quello è l'orario principale in cui avviene quello di cui vi parla la Giorgio. in questo rasso di tempo accade qualcosa, accade qualcosa nella nostra mente, è accaduto qualcosa anche a Linda Cortile, chi è che conosce il caso Linda Cortile, no? Chi è che conosce il caso Linda Cortile? Una sola? Che lo conosce. Questo è, allora, lo dico solo in due secondi, Linda Cortile è un caso clamoroso, perché è del 1989, il suo vero nome è Linda Napolitano, è poi uscito il vero nome, e cosa succede? Nel cuore della notte, ci sono, lei dice, io credo in versione alti, insomma, racconta che gli esseri piccoli grigi l'hanno prelevata e portata fuori dal suo appartamento, anche, è una preferenza abbastanza strana, poi a un certo punto, quello succede, perché ha raccontato questo? Perché ha letto un libro, ha saputo che Bud Hopkins, quello scrittore americano che ha scritto un famoso libro, ha letto il libro di Bud Hopkins, ha detto, questi hanno avuto esperienze, si ne è la mia, ha contattato Bud Hopkins, Bud Hopkins ha messo Linda Napolitano sotto i nosi, me la stringo, perché non è che... Cosa ha raccontato? Ha raccontato che dei tre esseri piccoli e grigi l'hanno prelevata dalla camera da letto, l'hanno sollevata in aria, senza toccarla, è uscita dalla finestra chiusa, sto parlando di chiusa, quando è appena uscita, è stata avvolta da una lube bianca, quella che noi chiamiamo la luce solida, quando è uscita, un raggio di luce bluastra è proiettato da un oggetto volante che era all'altezza, lei era su un grattacielo, non era una casa a pian terreno, siamo a Manhattan, una luce bluastra li ha avvolto sia lei che i tre esseri che ce n'erano uno in alto e due ai lati, tutti rannicchiati in posizione fetale, sono stati tutti assorbiti dal luffo tramite questa luce, anche voi potete vedere questa schiena è una che ha bevuto e ha sognato tutto, qual è la cosa bella del caso di Rita Cortilli? Sono stato di cuore testimoni, è clamoroso perché sul ponte del, non mi ricordo cosa attraversa, è nata nel fiume, in quel metro stavano transitando due, erano le guardie del corpo di quello che era un personaggio molto importante delle Nazioni Unite ed era bordo, molti di voi come a me non siete più giovanissimi saprete chi è, era allora il segretario delle Nazioni Unite per Sdequeria, lui era bordo e lui ha visto tutte queste cose e le guardie del corpo hanno dichiarato alla hanno fatto una serie di lettere a Badopini lo sono andati a trovare hanno pubblicato tantissime cose su questo avvistamento hanno visto praticamente l'oggetto che una volta che prelevano loro guardavano col binocolo attenzione non guardate addirittura col binocolo hanno visto che l'oggetto volante è partito è schizzato in alto e poi è ridisceso è sceso dentro l'acqua del Nazion e poi è scolparso ma non erano solo loro due ci sono stati Badopini ha intervistato a meno sette testimoni di questo avvistamento quindi ecco perché dobbiamo sempre analizzare dobbiamo vedere quale caso andiamo ad analizzare ma anche in questo caso è successo qualcosa che riguarda dimentico una cosa importantissima l'indacortile o napolitano che sia era lì perché era dipendente dell'ONU mentre passavano mentre passavano arrivava la macchina con dentro il resto di quegli anni quindi secondo voi una dipendente dell'ONU ha interesse a inventarsi una cosa di questo tipo e se non fosse stata una dipendente dell'ONU chi è che gli avrebbe dato per la credibilità non certamente l'ONU ha fatto un miracolo perché rischiava di usare la puttanazza però effettivamente beh sì ok però al di là del dare credibilità o meno che certo ci sta quello che dal punto di vista dell'analisi quello che conta è in questo caso è più difficile smontare un caso del genere perché con tanti testimoni è molto difficile dire che tutti questi hanno avuto la stessa allucinazione e nel cuore della notte è stata privata nel cuore della notte perché nel cuore della notte è un momento in cui come dicevo siamo più indifesi e nel cuore della notte viene sviluppata una certa sostanza la DMD e penso che a questo punto sia Giorgio che debba introducirci all'argomento di DMD dunque innanzitutto vi chiedo se parlo senza microfono non mi sentite qualora mi si abbassi la voce non dite che prendo il microfono allora devo dovermi meglio la regia mi impone una regia non democratica mi impone di parte si sente adesso allora due amici si incontrano al bar ciao panino tanto che non ti vedo come stai non ci vale mi è capitato di tutto e comincia a parlare mi disgrazi l'altro ascolta ascolta pazientemente poi scappa dietro vengo ma insomma si droghe e l'altro gli risponde tranquillamente si mo'am gati da l'oro a si incontra la notte biochimica DMD agronimo per DMD triptamina è la sostanza endogena neurotrasmittitrice più potente conosciuta dalla chimica biologica mondiale c'è un solo handicap per chi vuole pensare al medicamento dura 5 minuti non di più quando è in circolo dura solo l'effetto sono 5 minuti ma in questi 5 minuti cosa fa naturalmente non prendete la lettera come detto prima Massimo non siamo tutti uguali c'è chi ha i capelli c'è chi non ce li ha più c'è chi ha il naso lungo c'è chi ce l'ha corto c'è chi ha gli occhi azzurri che ce li ha neri quindi la produzione di DMD c'è in tutti noi dalle due a cinque ma non è quantitativamente uguale per cui qualcuno sarà più portato a fare i cosiddetti sogni lucidi o sogni guidati che non sono altro che entrare in un'altra dimensione noi entriamo senza volere in un'altra dimensione tutte le notti durante la fase sarebbero con il rapido movimento degli occhi adesso lo vediamo noi però non possiamo decidere adesso vado aspettatevi di che adesso vado no a noi sembra di aver sognato ma in realtà siamo entrati in un'altra dimensione e chi c'è in quest'altra dimensione vi ricordate i famosi film che poi stuporano perché sono tutti uguali non aprite quella porta una volta che si apre una porta quelli che sono di là possono venire di qua come noi che siamo di qua possiamo andare di là ma non decidiamo noi decide il nostro organismo e chi c'è di là lo sanno solo loro noi non lo sappiamo prima ecco perché nei consensi medianici la raccomandazione è che sia un professionista se fa per dire a guidare il cerchio perché una volta che apre una porta chi è di là viene di qua dopo è difficile mandarlo via lì il discorso però è diverso nel centro del DMT però voglio dire in un'altra dimensione c'è qualche cosa ci sono delle entità ben precise tutte diverse tra di loro e diverse da noi e quando loro sanno che da noi la nostra porta automaticamente si apre è come se avessimo un termostato invece di un termostato con un cronografo cioè sono le due ragazze andiamo a prenderlo e li da fortine giusto? perché è più facile anche per loro l'accesso a quest'altra dimensione adesso vediamo in particolare le cose in area se vuoi spegnere grazie andiamo a vedere allora prima di parlare di DMT bisogna che sappiamo dove si forma perché il nostro il nostro organismo è è vasto si forma nella ghiandola pineale dove è la ghiandola pineale la ghiandola pineale è una ghiandola piccolissima detta anche di epifisi situata proprio al centro del nostro cervello da non confondersi con l'ipofisi che è la ghiandola per tutta Italia che controlla invece la parte somatica da crescimento della persona ed è qua vedete questa è la radiografia di un cranio e questo in questo punto piccolissimo è la è posta la ghiandola pineale l'epifisi è una piccola ghiandola d'opera situata al centro della scatola cranica dove costituisce gran parte dell'epidalamo nota anche come ghiandola pineale per via della forma che carica la grande linee quella di una piccola pigna l'epifisi è proposta la sintesi alla secrezione endogena di un ormone la melatonina e di un neurotrasmettitore la dimetitritamina o dmc premetto che alcuni scrivono triptamina con due m qualcuno con un m solo ma non c'è alcuna differenza la produzione di quest'ultima viene specialmente fra l'ora tre io so anche le due comunque va bene l'orario è questo tra le tre e le quattro ma anche le cinque del mattino durante la fase rende i sogni questo è di nuovo uno spaccato del cervello qui c'è l'edificio vedete proprio al centro che è questa una piccola pigna e un nostro buon cittadino un medico chirurgo Giancarlo Rosati ha scritto anni fa un libro che io ho trovato per fortuna sulla melatonina lo romone degli dei che è favoloso un libro che apre molte porte veramente in noi se lo trovate prendetelo tranquillamente perché ne va da pena non costa molto perché lo romone degli dei e qui cominciamo a capirci in quest'altra dimensione o in queste plurale altre dimensioni cui noi aggiungiamo chi c'è ci saranno anche gli alieni o extraterrestri ma non dimentichiamo che il termine extraterrestre viene da patino extrater che vuol dire fuori da non è necessario che siano i grigi o i i ronolani o i non fegesi dicendo vari avanti di alieni l'importante è che siano extraterrestri e quindi extradimensionali fuori dalla nostra dimensione secondo il dottor Rosati questo ormone ci può mettere anche in contatto e correlazione con una dimensione che è quella spirituale quindi dove secondo la cultura di tutti i popoli stanno le divinità l'epifisi era un tempo considerato inutile nonostante le piccole dimensioni il diametro di circa 8 mm e il peso irrisorio di 0 1 g l'epifisi è più lontana da essere una struttura superflua come la sigla scriveva fino a pochi decenni non solo la melatonina è un ormone chiave nella regolazione del ciclo sonno veglia la piangola pineale o epifisi ha anche un effetto inibitorio sull'asse o fisidoladi non a caso se la sua asportazione o abilazione chirurgica viene effettuata in epoca prepuberale si assiste ad una comparsa precoce della pubertà mentre quando viene eseguiti in età adulta si accompagna specialmente nel maschio all'iperboladismo questo effetto è più margato negli animali che presentano una stagione riproduttiva nel periodo in cui il giorno è più lungo quindi come vedremo la secrezione di melatonina minima questo perché la melatonina oltre a regolare i ritmi circadiali i giorni di eri contribuisce a modulare anche i ritmi stagionali ed esercita un importante effetto stimolante sul sistema immunitario non va confusa con la melania pigmento cutaneo che conferisce penalità scura a pelle e occhi l'attività della melatonina aumenta nelle ore notturne perché diminuisce durante quegli giorni perché di conseguenza la secrezione di melatonina è stimolata dal buio ed inibita dalla luce studi recenti indicano che la produzione della melatonina da parte dell'epifisi cambia anche in relazione ai mutamenti del campo magnetico terrestre ecco un elemento che può farci capire come mai non tutte le notti noi possiamo avere un quantitativo sempre uguale un prodotto di DMT basta che il campo magnetico terrestre cambia in poco e perché cambia? cambia perché è investito dal campo magnetico del sole quando sul sole ci sono esplosioni di masse coronali il magnetismo terrestre dopo almeno 8 minuti quindi la luce del sole è arrivata sulla terra 8 minuti cambia anche il magnetismo terrestre e di conseguenza la produzione di melatonina anche ed ancora in evoluzione il magnetismo terapeutico di melatonina dati di sue proprietà ipnotiche di luce di sonno antidepressive migliori disturbi di rumore neuroprotettive ed antiossidanti un team di neuroscienziati ha scoperto che la molecola di DMT torniamo a questa è un principio attivo presente anche in alcune essenze vegetali psicoattive questo vuol dire che in natura tutto è disperso non ci sono diciamo le proprietà di qualcuno le proprietà invariabili e invariate alcune varietà di mimosa di mimosa acacia anadenantera di roda desmodium graminace del genere falaris e molte altre piante funghi viene prodotto in modo naturale nel cervello del mammifer che si difonde nel fluido cerebro-spinale degli esseri umani sono stati eseguiti esperimenti sui ratti raccogliendo campioni di diagola pineale dai auditori ed analizzandoli in laboratorio gli analisi hanno confermato la presenza di DMT utilizzando rilevatori di fluorescenza ciò avveniva già nel 2013 questo già è relativo perché da 2013 oggi non è che siamo passati tanti anni è vero che la medicina fa passi da giganti però è tutto relativo la dimetiltritamina è storicamente utilizzata da varie culture nel corso del rituale che prevedono stati annuncinogeni primo fra tutti quelli realizzati dai diversi popoli indigeni delle americhe per le loro cerimonie religiose e o sacre è stata sintetizzata in laboratorio nel 1931 dal chimico tedesco Richard Manske qui vediamo il dottor Manske la formula bruta non perché è bruta ma si chiama così la formula di DMT e questi sono i cristalli di dimetiltritamina allo strato solido l'epifisi scusate sono tornato indietro ecco qua questa è la formula invece di struttura la formula in tre dimensioni della DMT questa si vede in tre dimensioni che sono tra di loro questa no questa è ferma qui ancora la posizione dell'epifisi e queste sono alcune delle pianti che contengono questa sostanza tra cui anche la sembra il no po' avvimosa ma non l'avvimosa che cresce dalle nostre parti ma quelle dell'Amazzonia scusate uno spunto di riflessione si voi come me penso che molti di voi non sentono magari addirittura per la prima volta del dettaglio parlare di di triptamine in quale piante si trova noi del mondo occidentale ci crediamo superiori vi ha appena detto Giorgio che i popoli antichi soprattutto del Sud America la conoscono da secoli da millenni provate a pensare quanto noi ci sentiamo superiori siamo superiori alle altre culture quando invece non conosciamo nulla della natura fondamentalmente questi conoscevano molto prima di noi dei segreti che noi abbiamo scoperto più di recenti sono uno spunto di riflessione giustissimo solo che loro l'hanno trovato nella natura mentre noi abbiamo trovato che è anche nella natura dell'uomo oltre che nella natura vegetale in particolare alcuni funghi silocide strofaria colocide panevulus che crescono spontanei nel Messico regionale chiamati in lingua locale bellissima questa carne divina carne perché si può mangiare e masticare e divina perché mette in contatto il misero uomo piccolo capitante di questo pianeta con le divinità teo nanakato contengono principi attivi denominati per l'appunto psilocimina e psilocina molecole molto simili alla DMT venivano utilizzate la recuperazione di genesis adatte sostanze allucinatorie né enti magici e divinatori descrizione degli effetti provocati dall'assunzione di questi tipi di funghi si possono rintracciare nelle croniche degli storiografi che seguirono Cortez e Pissarro nelle loro conquiste in America Centrale gli studi combinati da parte di etnografi botanici e farmacologi hanno appurato che l'introduzione per os di 10-15 mg di psilocimina è sufficiente a provocare in un individuo adulto distorsioni della percezione spazio-temporale e disturbi neurovegetativi quali nausea cefalea mitriasi bradicardia ipotensione gli effetti durano circa 2-4 ore quindi come vedete queste molecole simili alla DMT trovate dei funghi hanno 5 effetti duratori di circa 2-4 ore mentre la DMT che si accerniamo noi dura 5 minuti anche se lo scopo per cui la DMT viene sintetizzata rimane per un momento oscuro si è potuto accertare che risulta una delle sostanze più fugaci che siano mai state osservate nel corpo umano rimane in circa rifatti per solo 5 minuti se ne può rilevare la presenza nel fluido cerebro spinale ma dopo questo breve lasso di tempo quantità anche considerevoli di esta vengono rapidamente ricordate nell'organismo a livelli di base raggiunge la massima concentrazione fra le 3-4 del mattino periodo che corrisponde di solito alla fase REM Rapid Eye Movement del solo sono stati condotti esperimenti e studi sulla DMT da parte di un importante esponente della rivoluzione psichedelica l'esternobotanico Terence McKenna d'oripoi marcatemi questi nomi che corrispondono ad altrettanti libri che vediamo dopo perché sono fondamentali per capire i limiti in molte conferenze parla di un viaggio breve di 20-30 minuti che porta la mente in una dimensione di trascendenza quasi totale e sembra che attenzione esseri provenienti da altri mondi facciano comparsa nella nostra realtà parlando e interagendo con noi quindi queste non sono ammucinazioni sono come dice prima trasposizioni della dimensionalità questa fase potrebbe essere descritta da alcuni come l'esperienza di divenire uno spazio obiettivo di almeno tre dimensioni nel quale oggetti non terrestri ed entità possono verificarsi e interagire con noi nel giro di una decina di minuti le annucinazioni perdono vividezza si passa dalla fase di semi-coscienza per poi tornare nel giro di altri 10-20 minuti alla loro umanità McKenna descrive alcune sue esperienze in questo modo un livello sonoro che diviene più denso e si materializza in piccole creature simili a Neone famoso piccolo popolo fatte in un materiale simile all'ossiliana emesso dal corpo dalla bocca per tutta l'amorata del suono è infermiscente fosforescente e indescrivibile Dennis McKenna sostiene inoltre che la DMT non sia una molecola pericolosa per la salute a meno che una non muoia dallo stupore effettivamente non ci sono raggiunti prove di danni fisici causati da questa sostanza ma è possibile che un utilizzo continuato possano psicose e altre disfunzioni difficilmente prevedibili c'è però da subordinare che casi simili non si sono mai presentati finora nella letteratura medico-scientifica nel maggio del 1997 l'etnobotanico McKenna ha formulato la propria teoria circa di EMT e i suoi effetti sul comportamento umano e gli sostiene che lo strutto di questa sostanza contenuta anche in alcune essenzie vegetali che crescono nelle foreste amazzoniche psicotria desmetan c'è tanto quella roba lì è già noto da tempo ad alcune delle più indigeni della Colombia e dell'Equador potrebbe dare un contributo non indifferente alle indagini sulle problematiche legate ai cosiddetti rabbimenti alieni senza pretendere tuttavia che con questo si risolva la problematica delle abdaction da parte di oggetti volanti non identificati il Dottor McKenna afferra una buona sostanza che una volta si usa la DMT dopo circa 15 secondi si avverte la netta sensazione di passare all'improvviso in un luogo particolare completamente diverso da quello in cui si era prima di entrare nello stampo alternato di coscienza molte fra le persone che si sono volontariamente sottoposte alla sperimentazione della DMT hanno riferito di essersi ritrovate all'interno dei dischi volanti vedete prima quando ho fatto esempio della porta non aprire quella porta e al di là di quella porta che cosa si può essere all'interno dei dischi volanti di aver trascorso tre minuti circa del nostro tempo comprimo da cortile nostro tempo perché in un'altra dimissione il tempo non scordo uguale in mezzo a stranissime macchine elfiche emanurate da piccoli creture dalla pelle grigia dagli occhi grandi nel crano enorme per poi essere ridepositati nel proprio appartamento pelle grigia occhi grandi crano enorme abbiamo già sentito queste immagini immagini identiche se ci facciamo caso a quelle da sempre che riferiscono tra lezioni tradizioni per tradizioni culturale o necessità ambientali al consumo di sostanze psicotrofe dagli aborigini australiane agli azzechi dagli indios amazzonici ai maia eccetera attualmente le ricerche di McKenna sono portate avanti dal dottor Strassman medico statunitese dell'università di San Diego in California questo è il dottor McKenna e questo è il suo il suo libro il tipo degli Dei anche come vedete anche questo parla di Dei questo è il dottor Strassman la molecola dello spirito di nuovo cambia il titolo ma più o meno si gira sempre intorno allo spirito e questo è il libro di Enrica Peruchetti che è stata nostra ospite anni fa anche questo è il suo titolo di EMT e infine questo che parla di una pianta particolare la Ayahuasca la diana perché è una diana degli spiriti quindi come vedete è tutto improntato a un qualche cosa di extradimensionale ora c'è diciamo questa può essere la teoria nella pratica o la pratica nella teoria adesso parliamo anche se sono passate parecchi anni con un rapito vero questa persona io l'ho ricevuta quando ero con i servizi in ospedale in uno studio per parecchie volte è una persona che veniva appositamente da Roma ha fatto di un'ipnosi regressive e questa è la sua breve storia dico breve perché sarebbe troppo lunga e il mail è in classe 1972 naturalmente per la privacy non posso fare l'ipnosi la mia esperienza risale molti anni fa ero piccolo avevo avuto circa 9 anni quando è successo l'evento che un subconscio potrebbe collegare al corpo estraneo che mi è stato diagnosticato radiologicamente e poi vedremo anche la radiografia mi ricordo che per tre sere consecutive uno strano oggetto di forma circolare con tanti luci si alzò in volo dalla campagna di fronte alla casa dove abitavo lui abita in provincia di Roma e non la Roma città io ero sul balcone all'ultimo piano intento ad osservare l'inconsueto fenomeno ad un tratto l'oggetto si venisse verso di me fermandosi proprio in sotto la mia testa ad un'altezza di circa 5 metri la cosa che mi quasi impressa è che non emetteva alcun tipo di rumore non ricordo altro sinceramente tutta l'unica dopo qualche giorno e non mi so ancora spiegare il perché feci un giro di ispezione nella campagna in distanza da mia casa e mi trovai una grossa apertura con una bocca rotonda che entrava nel terreno quello che lo chiamiamo depressione circa 10 anni fa sono tornato in quel posto Ponte Galeria sulla mia portuginsa a Roma per effettuare un'articola ricerca che però si è conclusa con un esito negativo non so cos'altro pensare quando ho scoperto casualmente di avere quel frammento in faccia di cui ignoravo la presenza non presentendo alcuna sintomatologia i medici che avevano esaminato le lastre mi dissero che tutto ciò era molto strano poiché non avevo mai subito traumi di alcun genere né incidenti stradali o solo loro inoltre non compare sul viso in corrispondenza del frammento di ignota provenienza alcun tipo di cicatrice che possa giustificare la penetrazione nel medesimo del cranio spero che lei possa rientrarmi a spiegare il significato di questo intruso metallico raglio opaco sottostante lo zico modestro inserito nel mio cranio e ora vediamo anche linda napolitano aveva un impianto facciato prendi il microfono però con cerchi anche linda napolitano aveva un impianto vicino alla narice del naso più o meno questo sotto lo zigoma ma lei è leggermente più vicino al naso dall'ipnosi regressiva è uscito che le hanno le sono penetrate vicino al naso con una specie di sonda rotante piccolina dolorosissima che le ha fatto perdere i sensi poi non ha più sentito nulla la vediamo ce l'ho ce l'ho ce l'ho davanti ecco qua questo è il frammento metallico radio opaco scusate radio opaco inserito nello zigoma destro questa è una frontale come vedete e queste sono due laterali destra e sinistra si vede molto bene infatti gli hanno detto i medici ma lei lavora in una fabbrica di alluminio che tratta di un metallo no assolutamente Beatrice non ha mai lavorato in un segno poi mi hanno chiesto ma ha avuto un incendio stradale con la rottura del parabrezza del metallo dell'auto assolutamente no mai è caduto da una scala no niente allora non sappiamo che cosa che cosa dire questi sono alcuni alcuni tipi di impianti quelli che noi chiamiamo anche microchip naturalmente sono molti ingranditi non pensate che siano veramente così lunghi sono ingranditi non so quante volte è evidente che quello che li ha scansionati al microscopio li ha associati sia con la melatonina che con la dimetitriptamina perché senza l'uso contemporaneo di queste due sostanze o anche una sola probabilmente il salimento non viene fatto a dovere questa breve ma dettagliata relazione da sola non sarebbe sufficiente a far sopporre un caso di contatto del quarto tipo e di conseguenza di indurre nelle inquirente l'esigenza di intraprendere un'indagine intesa a verificare la realtà di tale evento tuttavia ci si è consentito replicare anche in questa occasione alcune costanti fondamentali che puntualmente contraddistinguono i casi di sospetta abdapsimo la giovanità del contattato quasi a voler confermare l'intenzione delle presunte entità aliene di voler monitorare l'addotto mediante il risalimento dell'impianto durante l'arco temporale dell'evoluzione biopsico-fisiologica del soggetto uomo sono assai rare infatti se non addirittura assenti i casi di impianti ripenuti i soggetti aliziani la presa di coscienza del testimone ancora che giovanissimo che qualcosa di estraneo alla normalità degli eventi era accaduto tanto da ricercare un conferma in tracce di denti nella zona circostante della sua abitazione il mio rialzionale è riuscito a scosio seppur lentamente vi ricordo delle esperienze shock subite in un passato relativamente recente ricordo che come arcane per ogni evento traumatico di forte impatto emozionale il cervello umano tende ad ombilare per un periodo di circa cinque anni e qui bisogna sfatare un mito gli avieni gli hanno cancellato la memoria gli hanno ordinato di non ricordare nulla non è così il nostro cervello ricorda facilmente quello di cui è stato contento mentre cerca di obliubiare non riuscendo però cancellarlo di tenere diciamo il coperchio sulla pentola che bolle il più possibile ma non è possibile tenerlo per sempre perché circa dopo cinque anni il subconscio riaffiora completamente però per cinque anni la persona sente che c'è qualcosa che ponde dentro di sé ma non si ricorda che cosa le vicissitudini subite da questi involontari a cambio umane riaffiorano dal subconscio mediante ipnosia regressiva e già si assiste nel corso delle potigliose ricostruzioni di Carla Turner anche questa se trovate il libro prendetelo nel suo libro Tekken ad un'evoluzione della tecnologia impiantistica aliena anche loro si sono evoluti mentre in sette case di inserimento degli impianti che le malcapitate chiamano innesti avviene a livello nasale o da auricolare nell'ultimo caso trattato quello di Ami una delle otto donne prelevate da presunte entità aliene e sottoposte d'oroma grande di una minuziosa serie misteriosi esperimenti psicogenetici accade una vera e propria rivoluzione da racconto di Ami sotto ipnosi veniamo a sapere infatti questa è la traduzione la trascrizione di ipnosi mi spiegano degli Emi che mi hanno rimorso l'innesto dal collo sotto l'orecchio perché è vecchio è inserito ancora in alcune persone ma li stanno rimuovendo perché sono vecchi concetto ribadito a volte gli innesti si trovano alla base della spina dorsana molto in basso da dove controllano tutto il corpo dal cervello in giù ma sono vecchi ora usano qualcos'altro sembra di sentire parlare da fretta i nuovi innesti sono nel cervelletto ma non li inseriscono come quelli vecchi da dietro l'orecchio non si riuscirebbe a rimuoverli soltanto loro possono farlo infatti è molto pericoloso andare a toglierli qui vedete questa invece è roba terrestre queste sono delle specie di pistole che servono per usi beniti chiamiamoli così in neuropirurgia per rimuovere eventuali tumori o delle particelle di neoformazione che sono state progettate e usate dall'università di Pittsburgh quindi se possibile per noi con questa pistola ovviamente è molto più facile possibile anche per loro fare la stessa cosa scusate e questi sono i libri che vi consiglio intrusi di Bad Ottimis quello mi ha citato prima anche Massimo John Mack questo è il Vangelo dei Rapiti che piace tanto sia a me che a Claudio questo è in francese ma è fantastico perché i francesi non si spurtano tra le mani e dicono quello che devono dire a differenza di qualcun altro in Italia les kidnappers de l'autre monde kidnappers in inglese vuol dire i rapitori e poi anche questa è molto buona perché è molto interessante perché è fatta esclusivamente su donne sono tante donne rapite e impiantate Carla Palmer purtroppo guardate un po' che sfortuna John Mack è morto Jimmy Chio è morto Carla Palmer è morta Bad Ottimis non lo so è ancora via non è mai che se ne moriamo posso togliere attualmente infatti la conferma dell'avanzata tecnologia è difficilmente riconducibile ad una matrice terrestre con cui gli impianti vengono realizzati e inseriti in tessuti umani sta nel fatto che non solo all'esterno del punto di inserzione non si riscontra la benché minima cicatrice ma anche perché gli limiti di cui sono costituiti non generano alcun fenomeno di digetto da parte dei tessuti circoscanti infatti non si forma attorno all'impianto una risposta di tipo anticorpale la quale se riconoscesse come strano il corpuscolo introdotto lo circonderebbe di un collettivo granulomatoso cicatriziale che lo trascinerebbe lentamente verso l'epitelio fino a dispenderlo e il signore che lavora in un giardino sanno benissimo cosa succede quando si piangono una spina di rosa che subito non viene via fa male e poi pian pianino dopo magari anche un mese si forma una specie di callo e la spina viene sputata fuori tutto ciò significa anche il fatto che il diaro depositario dell'impianto non ha la possibilità di accorgersi della presenza di questa new entry se non risentono occasionali indagine radiologiche non risentendo alcun sintomo disturbo l'impianto stesso infatti tende a fondersi col tessuto circostante formando un tutt'uno con esso rispetto ai primi episodi documentati anni 70 e 80 oggi si assiste ad un salto di qualità degli stessi che si sono evoluti da radioopachi come quello dell'uomo che abbiamo visto prima anni 70 infatti a biocompatibili e infine a biointegrati biocompatibili cioè stanno bene insieme non si risettano l'uno con l'altro e addirittura ultimamente sono biointegrati nel senso che non si riconosce nemmeno la differenza tra il tessuto umano e l'intrusione fatta con questi microcevoli proprio da quest'ultimo particolare si vince quanto sia potenzialmente pericolosa la rivoluzione chirurgica dell'impianto stesso qualora caso complessibilmente raro l'impiantato sia consensibile torniamo alla bimeti è presente oltre che molte piante abbiamo detto limosa di proprio cabrerani psicotra venisi anche nel veneno del rospo in cilius alvarius un anfibio della famiglia dei bufonidi diffuso nel deserto di Sonoma statunitì sud occidentale e messico settentrionale questo albunetto ha benegliato che sulla schiena che si cernono alla molecola chiamata per appunto bufotenina sintetizzata per primo dal chimico giapponese Toshio Oshino nel 1936 nella cultura popolare si è diffusa la leggenda secondo cui leccando il dorso dei rospi del genere bufo sarebbe possibile assumere la sostanza allucinogena e vedete che le favore hanno sempre un fondo di verità vi ricordate eh principazione corpacciante rospo questa invece è proprio un'allucinazione perché la DMT non è endogena ma è rospogena riassumendo attraverso gli effetti della DMT d'uomo ogni notte durante gli stati profondi del sonno accede probabilmente ad altre dimensioni che partengono ad una realtà effettiva ma diversa da quella in cui si trova allo stato di venia e di cui conserva faticosamente un vago ed ancestrale di corpo qui vediamo ancora la chiandola pineale gli alieni esistono ma possiamo comunicare con loro soltanto attraverso le nostre menti chi ha fatto questa affermazione che è molto bella gli alieni esistono ma possiamo comunicare con loro soltanto attraverso le nostre menti questo signore di quanto io ho conosciuto a San Marino di cui io lo dico che non è un qualunque ma è Brian O'Leary laureato a Berkeley California University consulente NASA per i progetti a Paul e Merida la sua la sua la sua la sua la sua la sua frase originale è questa in inglese che mi risparmio perché in inglese non esiste c'è però la traduzione che è questa è possibile che il semplice atto di indurre state alterate di coscienza riguardo al nostro spazio interiore possa creare l'esperienza straordinariamente reale del movimento a volontà attraverso lo spazio il tempo e altre dimensioni proprio come i nostri presunti visitatori UFO sembrano essere in grado di operare con riguardo allo spazio esterno chiaramente c'è un punto interrogativo alla fine ma un punto interrogativo pleonastico perché quantomeno io ci metterei puntini di sospensione se non un bel punto esclamativo signore ho finito per vostra fortuna è finito grazie noi non li immaginiamo nemmeno cioè voi se solo riusciste ad immaginare il trauma che hanno rapido io ho studiato diverse case di rapidi e ho visto purtroppo l'amore ho detto le cose non sarai mai più la stessa persona cioè voi siete qui siete quello che siete se domani avete un'esperienza traumatica di questo tipo non sarete mai la stessa persona che siete oggi perché vi dico questo ad esempio ne prendo uno a caso uno dei due funzionali che faceva la guardia e faceva la scorta a Perez de Queria quello che si chiama Danny che è andato tante volte ha cominciato a non dormire di notte ha avuto un'ossessione per Linda Cortini quello che è successo addirittura l'aveva sequestrata racconta insomma alla fine è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico ed era una guardia del corpo di Perez de Queria ecco perché vi dico che noi siamo fortunati che non abbiamo avuto un'esperienza di questo chi ce l'ha e sono dei poveretti per quello che vi è successo e noi infatti volevamo fare un qualche cosa dalla parte della vita per raccontare guardate che hanno un trauma per portare alla conoscenza di tutti il trauma di queste persone e ce ne sono anche qualità che ragazzi ce ne sono noi ne abbiamo anche conosciute purtroppo le persone che hanno avuto non dico che hanno avuto problemi psicologici anzi direi che ce l'hanno avuto Carasso Monserge no no ma io parlavo di Carasso Monserge carasso Monserge di Carasso Monserge